Ciao a tutti ragazzi, qui è Porta di Gamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi ragazzi parleremo delle nuovissime news di Fortnite per un evento speciale perché oggi è uscito il nuovissimo aggiornamento. Feta circa 3 GB, almeno su PS5, e ha aggiunto una quantità di roba ragazzi che non mi spiego. Vi ricordo solo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina prima di iniziare, altrimenti perderete tutti i prossimi video di questo tipo, e soprattutto vi ricordo anche di iscrivervi al mio secondo canale, Lucas Mele, in cui parlo fondamentalmente di me, è un canale molto più personale, lo trovate in descrizione. Allora ragazzi, vediamo un botto di novità, veramente tante, non so da dove partire. La prima è che è molto probabile, ma non ufficiale, però è molto probabile una collaborazione con Uncharted, ragazzi. Sapete che il 18 febbraio uscirà il nuovo film di Uncharted con Tom Holland, io non vedo l'ora di andarlo a vedere, tra l'altro uscirà un giorno prima del mio compleanno che è il 19 febbraio, e c'è una probabilissima collaborazione, perché nella settimana 11, che inizierà proprio il 17 febbraio, quindi un giorno prima dell'uscita del film, ci sono delle sfide nella settimana 11 proprio di Uncharted. Riferite proprio al fatto che rimetteranno anche la mappa del tesoro, che è chiamata la mappa del tesoro di Uncharted. Quindi ragazzi, è molto palese che potrebbe esserci una collaborazione, non sarebbe strano, anzi. Ripeto, non possiamo dire che questa collaborazione sia ufficiale, però il fatto che ci sia la mappa del tesoro di Uncharted e che stranamente le sfide escono proprio il giorno prima del film, beh, tenendo conto di come si comporta Epic Games, questo mi puzza un po' di collaborazione. Però, però rimane pura speculazione, vedremo nelle prossime settimane. Parlando di skin, a questo punto restiamo in tema, vi parlo di un nuovo pack che è stato aggiunto, e poi anche della Queen of Hearts, che è un po' la skin del momento all'interno dello shop. Vi ricordo sempre, ragazzi, di acquistare le skin all'interno dello shop solo e solamente con il codice creatore Fortu, così come vedete a schermo. Se lo fate, mi supporterete, quindi grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ah, e si resetta ogni 14 giorni, quindi mi raccomando, mettetelo spesso. Abbiamo poi un'altra notizia molto succosa per tutti gli OG players di Fortnite, che a me fa molto piacere. È tornato Levi Shotgun. Nel particolare si può ottenere, come leggete a schermo, da delle chest, diciamo a terra normalmente, oppure dai rifornimenti o dagli squali. Nella sua versione comune fa 81 di danno, 142 in headshot e ha un reload time di 4,8 secondi. Invece noto che per la versione leggendaria il danno è di 99, gli headshot sono 173, quindi non si può shottare se un nemico è full beat e full scudo, ma diminuisce proprio il reload time. Questa cosa mi fa strano, però va bene, figo, figo. E ha un fire rate di 1,3. Ok, ci sta, ci sta, mi interessa questa cosa, la voglio provare. Io amo davvero tanto Levi Shotgun, lo ricordo in maniera piuttosto amorevole e sincera, perché era uno dei primissimi fucili a pompa delle diverse varianti che poi si sono aggiunti nel tempo, e io lo adoravo, perché ai tempi era veramente OP. Era tanto, tanto OP. Siamo entrati nei tecnicismi, quindi prima di passare alla notizia più golosa del giorno, volevo ricordarvi che è stato diminuito il numero per i muri rinforzati che si possono portare, attualmente se ne possono portare 15. Sono comunque tanti, per quanto mi riguarda, sono davvero tanti, perché questo vuol dire che ti puoi boxare circa 3 volte, quasi totalmente, quindi bah, non lo capisco tanto come cosa, però meglio che portarne 50, questo sicuramente. E inoltre la Epic ha confermato che attualmente il Tactical Sprint di cui abbiamo parlato negli ultimi giorni, quello che aveva dei cambiamenti rispetto al fatto che si salga o si scena da una collina, è pronto, mancano solo le animazioni, e tra l'altro c'è una nuova meccanica che viene chiamata Clumber, che dovrebbe forse essere qualcosa per il parkour, però queste sono speculazioni delle fonti a cui faccio riferimento, quindi è tutto da vedere. Comunque c'è questa nuova meccanica che vorrebbero aggiungere. Sarebbe carino se vedessimo qualcosa a livello di parkour, però bisognerebbe vedere come si sviluppa, perché sarebbe veramente game changing al pari delle scivolate su Fortnite, quindi sarebbe da vedere. Anzi, forse pure di più delle scivolate. Vorrei vedere cosa intendono, magari è solo una speculazione e stiamo parlando del nulla, però carino a sapersi. E abbiamo poi la novità più succosa della giornata. Magari qualcuno l'avrà già provata, ma finalmente è stato fatto un cambiamento che aspettavamo da tantissimo alla mappa. È stata appunto aggiunta la caverna in cui potremmo trovare il nuovo boss della mappa. Sarebbe infatti Lai o Brute, di cui però il nome è stato cambiato. Infatti si chiamerà Gunnar. Quest'ultimo si troverà proprio all'interno della caverna. Avrà 650 HP, 650 di scudo, quindi in totale, ragazzi, 1300 di vita. Insomma, Antonio che non si butta a terra. Potrà addirittura caricarvi con un dash attack che ha un cooldown di 10 secondi e avrà la mitica SMG, quindi avrà praticamente la stinger leggendaria. E può lanciare anche delle granate. Insomma, io credo che questo pure in otto è difficile buttarlo a terra, però in realtà è molto figo perché vi droppa proprio il mitica SMG, quindi la stinger leggendaria. Tra l'altro in una versione specifica, che è proprio quella di Gunnars, che sarebbe appunto il personaggio, il boss. Un po' come era anche nel capitolo 2, con le 5 armi mitiche che trovavi in giro. Avevano i nomi specifici dei boss che le droppavano. Tra l'altro questo rilascerà anche la keycard per il vault della caverna. Quindi proprio vecchio stile, capitolo 2, magari con Midas, tanto per fare un esempio. E piccola curiosità, magari per i più furbi... Beh no, ragazzi, non si può mettere la keycard all'interno della tenda e magari tenersela per un prossimo game. Bisogna sempre eliminare il boss e quindi riacquistarla ogni volta, insomma riprendersela ogni volta. Per quanto riguarda la caverna, questo è fondamentalmente come strutturata, questo è il video. È molto ampia, vedo poche coperture. Credo che ci sarà tantissima gente all'inizio, sia perché è una novità, sia perché qui si possono ottenere la stinger mitica, praticamente con un fissio e anche il vault. Si può prendere anche il vault, quindi... Wow, credo che ci sarà un massacro per tanti giorni in questa zona. Quindi non vedo l'ora di andarci e farmi menare totalmente. Questo che vedete a schermo sono le due ultime notizie. Queste sono le nuove animazioni che sono state aggiunte per le spara ragnate degli Spider-Man, che ha preso un sacco quindi GG. Questo invece a schermo è The Foundation, una skin di The Rock con la sua emote di lui che si leva il casco e fa vedere quanto è figo. nulla che non ci aspettassimo di già. Personalmente credo che questo aggiornamento sia stato uno dei più zeppi di roba nell'ultimo periodo e mi ha fatto molto piacere vedere comunque che questa season 3 stia continuando a macinare, macinare, macinare. Oltre al fatto che comunque c'è un grande interesse da parte della community su Fortnite, che nel capitolo 2 si era andato un po' a perdere. A me fa molto piacere perché personalmente Fortnite è un gioco che mi ha dato tanto e so che continuerà a darmi tanto e quindi è veramente un onore poter ancora vedere tutta questa attenzione da parte di Epic Games. E poi è bello perché con il capitolo 3 mi sono tornati i vibe del capitolo 1 che chiedevamo praticamente da due anni se non di più, quindi GG, GG Epic Games. Vi ricordo a questo punto di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, di attivare la campanellina altrimenti perderete tutti i prossimi video che arriveranno, anche perché il prossimo video è una challenge. se scivolo il video finisce, finirà malissimo lo so già da ora e vi ricordo anche di iscrivervi al secondo canale LucasMede che è un canale molto più personale in cui parlo di crescita personale, investimenti, palestra, università, insomma se volete iscrivervi link in descrizione. A questo punto boys, noi ci becchiamo alla prossima. iscriviti al canale